Un reparto che conoscete poco, è un'attività che conoscete poco, la chirurgia maxillofacciale, sigla. Ho il piacere di presentarvi questa sera un'equipe che lavora molto bene dietro le quinte e che spesso non compare nelle grandi cronache, però fanno cose grandi, cose eccellenti. L'equipe di chirurgia maxillofacciale del reparto ospedale di Padova, Università di Padova, del professor Giuseppe Ferronato. Il collega assieme al professor Ferronato è Alberto Bedegni, ricercatore e i suoi allievi, gli allievi del professor Ferronato che sono qui presente. Bedegni è un ricercatore che si è dedicato alla computer grafica per la ricostruzione dei pezzi che mancano e il professor Ferronato ha praticato il primo trapianto di mandibola di Padova. Per lo meno che si è conosciuto perché ne avete fatti anche altri prima. Adesso che cos'è questa maxillofacciale che rende di nuovo la gente, io do del tuo al professor Giuseppe perché ci conosciamo da anni, perché deve diventare la persona di nuovo quella che era. Riconoscersi nella sua fisionomica che è anche il suo carattere, nonostante o la malattia o la devastazione di un trauma. Sì, difatti il nostro compito è quello di risistemare dei volti che sono deformi o diventano deformi o nascono deformi per varie malattie. In effetti la nostra specializzazione si distingue in più rami, quindi curiamo pazienti che sono deformi dalla nascita o che diventano, pazienti che diventano deformi per dei traumi o per motivi oncologici, quindi per grosse demolizioni oncologiche. E quindi abbiamo la possibilità, come tu hai accenato prima, di fare queste ricostruzioni che sono applicate nei vari settori. Regia, intanto ci mandi la prima diapositiva. Io sono rimasto molto piacevolmente colpito dal fatto di una collega, una giovane collega, che colpita da un calcio di cavallo in faccia è stata perfettamente ricostruita. Ora è mamma, l'ho incontrata poco tempo fa, è bellissima, forse meglio di prima addirittura. E di questo me ne sono grato. Questa è l'equipe ufficiale, quella che compare anche all'università. Sì, sì, sì. Ecco, manca qualcuno, ma diciamo che la maggior parte del gruppo è qui presente. È qui presente. Poi i migliori sono qui per forza, i più belli. Ecco, questa che cos'è? Questa, vediamo, ecco, quella che è una patologia molto frequente, che viene chiamata malocclusioni o disgnazie, dove ragazzi giovani presentano delle problematiche di deformazione appunto dello scheletrofacciale, e che dà luogo a quelle malocclusioni, come si vede nella diapositiva, mandibole grosse o piccole o mascellari piccoli o grossi. Ecco, qui si tratta di, diciamo, ribilanciare, riarmonizzare un viso, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le esigenze funzionali, non solo della masticazione. Insomma, ecco, abbiamo una serie di problematiche funzionali e con questo tipo di intervento, che è una fase poi della terapia, come vedete, i modelli prima dell'intervento, i modelli dopo l'intervento, il passaggio intermedio dove si vedono i movimenti, e quella è un'immagine intraoperatoria di un mascellare che viene spostato e poi fissato nella nuova posizione. Con un risultato eccezionale. Ecco, sì, la paziente è sicuramente una ragazza molto, ovviamente non partiva, non era una ragazza con particolari problemi estetici, però sicuramente questa armonizzazione è più che evidente, insomma, ecco, e come si vede anche dallo scheletro è ben armonico e l'occlusione è un'occlusione assolutamente perfetta e normale. Quindi l'abbiamo fatta sorridere per la vita. Certamente, certamente. Vediamo qualche altro caso della vostra chirurgia. Ecco qui andiamo nella malattia. Ecco qui io darei la parola ad Alberto Bedoni, che è colui che in qualche maniera cura la diagnosi e poi il piano di terapia è per questi pazienti che per motivi o di necrosi da farmaci o per motivi oncologici devono essere ricostruiti. Alberto. Salve, allora questo è il caso di un signore affetto da una patologia che è emergente, perché è associato all'utilizzo di farmaci salvavita che vengono utilizzati per il trattamento delle malattie neoplastiche sistemiche e che ha un'incidenza crescente. Quindi non è un caso isolato ed è questa osteonecrosi che non è altro che la morte proprio della struttura scheletrica conseguente solitamente infezioni, determina delle devastazioni a carico specificamente del macellare della mandibola e della componente ossea. In questo signore in particolare si era determinata anche una frattura patologica, conseguenza di alcuni tentativi chirurgici di bloccare e restare questa osteonecrosi. La malattia interessava una parte importante della mandibola, tutta la mandibola sinistra e anche il mento, una regione molto sensibile perché è quella che si inseriscono tutte le muscolature della lingua, che ha una grande importanza dal punto di vista della funzione, sia dell'articolazione del linguaggio che della masticazione e della deglutizione. In questo caso specifico ci è venuta in aiuto la tecnologia. Noi abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni, attraverso lo sviluppo di una chirurgia computerizzata e la produzione di sostituti protesici al momento in titanio, che possono essere utilizzati come veri e propri sostitutivi anatomici della parte che vengono asportate dalla mandibola in soggetti che per condizioni cliniche generali non possono sopportare interventi principali, più importanti. In questo caso è stata trapiantata, trasferita una mandibola in titanio a ricostruire tutta la mandibola di sinistra e la regione del mento. Tutta la muscolatura della lingua è stata riattaccata e senza necessità di tracchio il paziente è stato svegliato e il giorno successivo ha cominciato a mangiare e a fare una vita normale. C'è una cosa rapidissima insomma. È stata una cosa rapidissima con dei tempi operatori contenuti perché siamo nell'arco delle quattro ore e mezzo di intervento. Questo è quel caso che è finito nei nostri giornali? Questo è uno dei casi che appartiene a quella serie e non esattamente a quello. Questo è un signore che ha questo controllo a due anni di distanza di intervento e poi vedete vedere che anche nell'attacco ricostruito tridimensionalmente si vede tutta la parte mandibolare, protesica e l'emorfismo facciale, quindi la simmetria del volto, la competenza delle labbra che sono difficilmente raggiungibili con altre tecniche chirurgiche. Ormai ricostruite tutto in pratica. Come ti è venuta la passione della computer grafica da applicare ovviamente alla tua specialità? Più che una passione è uno stato di necessità perché oggi la tecnologia ha fatto dei passi enormi in ambito sanitario, sociosanitario, in ambito medicale e non approfittarne oggi per trovare soluzioni alternative a quelli che sono i normali trattamenti standard che noi utilizziamo sarebbe un errore. Oggi questo è presente, come abbiamo detto in passato, nel recente passato è il presente della chirurgia, non è più qualcosa di futuribile. Ma come fate a fare questo? Avete una sezione dove... Tutto questo parte, noi lavoriamo in collaborazione con un'azienda in particolare, con degli ingegneri e tutta una struttura e tutto si basa sull'acquisizione di una tacca, una semplice tacca acquisita con dei criteri particolari che viene trasferita su dei software, quindi su dei computer, su cui viene fatta esattamente la demolizione chirurgica e la ricostruzione. Il prodotto è la protesi o le placche che servono per fissare l'osso vascularizzato, qualunque cosa che possa essere di aiuto per rendere praticamente la chirurgia una riproduzione di quello che si è fatto a computer. Bravo, bravo Bedogni. Andiamo avanti con altri casi allora. Certo. La tecnologia ci è venuta in aiuto anche in questo ultimo caso di una bambina di otto anni che era venuta dalla nostra attenzione per un problema di una lesione espansiva dell'osso della mandibola di destra. Aveva una... oltre all'età ovviamente, uno dei problemi principali era legato al fatto che era interessato, la lesione arrivava in una zona molto delicata della mandibola, il condilo, che è un centro di crescita nei bambini, la perdita del quale comporta poi lo sviluppo di asimmetrie molto importanti. Allora, in questo caso si era reso necessario asportare la mandibola malata e ricostruirla e in un bambino l'indicazione assoluta rimane quella dell'osso vascularizzato, in particolare del perone. Ora, quello che noi abbiamo fatto grazie all'ausilio della tecnologia è di conformare delle placche appositamente studiate per non andare a lesionare la struttura condilare in modo tale da mantenere il centro di crescita. E infatti, dopo l'intervento chirurgico ricostruttivo, che è stato fatto, si può notare di tre particolari, in cui si vedono delle dime non impiantabili in resina che sono utilizzate per creare un difetto e dei tessuti di ricostruzione del perone e dei segmenti esattamente combacianti. E questo semplifica e accelera la procedura di saloperatoria. E questo è il risultato a tre anni, dove si vede che il viso è cresciuto in modo armonico, si vede un po' difficile nella radiografia, comunque una crescita proprio della struttura del ramo della mandibola di destra, al di là della ricostruzione, che ha mantenuto la simmetria del viso e ha permesso l'eruzione dei denti in modo corretto. Quindi la chirurgia che normalmente è necessaria in questi bambini negli anni successivi, qui potrebbe non diventarlo più. Quindi non era necessario demolire, ma era necessario rimettere a posto, ricostruire. Era necessario ricostruire quello che si è demolito. Questa è una bambina bellissima, no? Poi la vedete crescere a distanza, mai è a posto. Allora, cosa pensate voi? Che cosa vi ha innamorato? Adesso mi rivolgo ai medici dell'istituto. Allora, intanto Federico è specializzando, come Laura, no? Ecco, i due specializzandi, se la regia ce li fa vedere, sono Federico e Laura. Cosa vi è piaciuto di questa specializzazione? Perché volete diventare chirurghi massilofaciali? Sì, buonasera a tutti. Parlo per me, poi passerò il microfono a Laura. Io ho cominciato a frequentare il reparto fin dal quarto anno, avevo capito subito che era una disciplina un po' diversa rispetto a tutte le altre che offre la medicina. E offre la grande opportunità di poter, come abbiamo visto, demolire, fare delle grosse demolizioni, ricostruire e correggere moltissime deformità. E questo, diciamo che l'ho visto ben sviluppato in questa disciplina. Ma senti, come direttore, è anche un direttore bravo, che è stimolante. E' stato il motivo della scelta. E' necessario, è necessario. E poi già a Bedogni. E' necessario. Ma dal mio punto di vista, penso che ognuno si guardi ogni mattina allo specchio e si riveda nell'immagine che vede. Quindi lavorare con la faccia delle persone e cercare di mantenere quello che è l'immagine che ognuno ha di se stesso, sia comunque molto stimolante. In più, il poter passare da una chirurgia pediatrica sul bambino a una chirurgia più complessa dell'adulto, c'è una varietà comunque che è sempre molto stimolante. E poi queste cose così all'avanguardia sono belle, no? Sicuramente, per noi giovani soprattutto. Bene, bene. Che sono abituati a lavorare nella mentalità del computer loro, no? Sì, sì. Che non era della nostra epoca. Eh sì. Senti, in questa equip, sei stato anche fortunato a trovare le persone giuste per fare equip, perché tutte queste cose si fanno se hanno dei collaboratori validi che hanno almeno un entusiasmo pari al tuo. Tu hai ragione di dire che sono stato fortunato, ma non solo di trovarli, ma anche di sceglierli. Sì, è vero. Ma devono avere l'entusiasmo almeno pari al tuo. Cioè lavorare presto la mattina, essere pronti a sacrificio orario, anche di sera se serve, la notte, eccetera. È molto bello. Allora, abbiamo tre dottoresse anche, tutte e tre che siete maxillofaciali, no? Lavorate in maxillofaciali. E come conciliate l'essere donna, passatevi il gelato per il piacere, l'essere donna con famiglia o con problemi di gestione della casa e questa professione? Perché mi pare che sia una professione piuttosto impegnativa. C'è di mezzo la chirurgia, la sala operatoria, non è il solito repartino con l'edito, insomma. No, infatti. Una domanda interessante. Però ritorno a quello che dicevano anche Federico e Laura. Diciamo che la mia nasce ormai vent'anni, vent'anni che seguo il professore, che per me è il mio, il maestro. Ed è proprio l'entusiasmo. L'entusiasmo è quello che ti fa fare tutto, quello che lasci che i sacrifici non siano poi così pesanti e diventino facenti parte proprio della tua stessa vita. Adesso è giusto, mi viene in mente adesso alla sua domanda. Rispondo proprio con il primo passo. La mia figlia più grande l'ha fatto in una hall di un albergo dove stavamo facendo un congresso. Entrambi. Esatto. Quindi non credo di... Però le mamme si sanno organizzare. Esatto, esatto. Non credo che sia non solo la quantità ma la qualità del tempo che si dedica poi alla famiglia. Brava, dottoressa Saia. Sentiamola, dottoressa. Allora, buonasera a tutti. Indubbiamente è difficile, non è semplice. Però se uno sceglie una professione ovviamente si dedica. Per cui torni a casa stanco ma felice perché i risultati si sono visti dalle diapositive. Da qualsiasi è che lavora in MaxiLatale? Io mi sono specializzata con il professore, sono rimasta con il professore. Mi occupo principalmente della parte pediatrica, per cui con l'occasione saluto tutti i bambini miei e nostri dell'equip che seguiamo sia per traumi che per malformazioni e quant'altro. Ed è comunque, seguirli li vedi crescere, per cui io personalmente non ho figli, è come avere dei figli. Perché poi si instaura negli anni un rapporto anche con i genitori, vedendoli crescere. Soprattutto i bambini che hanno malformazioni, per cui richiedono interventi successivi e ripetitivi nel tempo. Grazie dottoressa. Prego. L'altra dottoressa. Grazie per la parola. Io vorrei aggiungere alle considerazioni che hanno già fatto le mie colleghe, che condivido in pieno. Anche il gruppo, nel senso ci si trova bene a lavorare in un gruppo in cui si condividono dei progetti, si vuole crescere e se anche a livello personale stimola rimanere anche più ore forse del necessario in ambienti di lavoro perché si ha voglia e quindi si vede qualcosa che si costruisce anche per i giovani, ma anche per il presente, per le persone soprattutto. Vi ringrazio. Alberto Bedogni. Sì, dimmi. Volevo anche che tu parlassi un attimino con il dottor Fusetti. Ah, con il dottor Fusetti, sì. Che in un caso però è il mio assistente più anziano. Più anziano. È stato il primo mio assistente di Padova. Sì, è il saggio, il saggio. Quindi ricercatore, ricercatore universitario, esatto. E dottor Fusetti. E quindi, insomma, volevo che la cosa le disse qualche maniera sottolineata. Dottor Fusetti si dedica tanto al lavoro ma anche alla docenza in pratica. Allora, visto che stiamo parlando, Alberto ha una mente e un cuore di ricerca. Io sono forse un po' più portato per la didattica, una cosa che mi piace molto e di cui mi sono sempre occupato. Difatti uno dei motivi per cui mi piace fare questo lavoro è perché sono a contatto con gli specializzanti, con gli studenti e con formazione anche dei medici. Anche quello è bello perché è anche fare il medico e insegnare agli altri, no? Assolutamente. Quanti anni è che fai la professione Fusetti? A Padova da quasi 19 anni, più le formazioni prima sono quasi più di 20 anni. Mi ha avuto una formazione americana perché ha avuto la specializzazione e quindi è stato, diciamo, anche un motivo di novità. Il primo genito. Sì, sì, è il primo genito, ma non a caso è stato scelto perché lui lavorava lì e volevo in qualche maniera introdurre qualche nota nuova, portarsi qualche freschezza. E l'hai riportato in Italia. L'abbiamo riportato e l'ho riportato in Italia. È un ottimo acquisto. Sì. Fusetti, bentornato tra noi, sì, sì, sì. E' da un po' di tempo. E' da un po' di tempo. E' da un po' di tempo. E' da un po' di tempo ci sta bene. A Tessignano, uno dei primi casi di reintegro dei cervelli all'estero. Sì, è un reintegro. Si parla tanto adesso, il professore l'ha fatto 20 anni fa. Alberto Bedogni, ti sei dedicato appunto a sistemare questa storia con la computer grafica e le nuove TAC. Ai nostri tempi, ti ricordi, le TAC non c'erano? No, non c'erano, non c'erano TAC. Non c'erano rastre sediate. Sì. Allora, la TAC tridimensionale e poi quindi passare a questo. E in tutto questo hai portato questa ventata di novità. Ci saranno altre cose dove si andrà avanti? Ci sono altre frontiere in questo campo? Le frontiere della medicina sono amplissime. Sappiamo che uno degli ambiti più esplosivi, ancora in ambito di ricerca clinica, ma che comunque ha un futuro scritto, è quello della medicina rigenerativa. Quindi da ormai, posso dire, 30 anni, moltissimi centri tra cui anche i nostri sviluppano tecnologia, non solo del tipo che abbiamo visto, ma in relazione al tentativo di creare tessuti in laboratorio da poter trapiantare. Quindi questo che noi abbiamo visto oggi non è altro che un sistema di passaggio che ci permetterà di arrivare nel frattempo ad avere i risultati di queste ricerche. Quindi la medicina rigenerativa è sicuramente il campo di espansione della ricerca principale ed è il futuro. Allora, diamo la parola, infine, perché siamo in chiusura, al professor Ferronato. Giuseppe, intanto complimenti, perché mi ha fatto parlare loro, perché significa che è il fiore all'occhiello del tuo lavoro di tanti anni. Cosa diciamo allora a chi ci ascolta? La chirurgia maxilofaciale è qualcosa che è cresciuta moltissimo, non è odontoiatria. No, assolutamente. Abbiamo delle radici in comune, almeno per qualche disciplina, nell'odontoiatria. Il primo caso che avete visto non era a caso una malocclusione, quindi ha molto a che fare anche con i colleghi odontoiatri, perché gli odontoiatri sono impegnati nella preparazione, l'ortodontista a sistemare l'occlusione prima dell'intervento. Quindi è un lavoro combinato, un lavoro in collaborazione. Però diventi un ricostruttore e anche un chirurgo estetico, se vogliamo. Sì, diciamo che l'odontoiatria è una parte del nostro lavoro, ma non è lo stesso. Noi abbiamo delle competenze assolutamente diverse. E poi andiamo avanti verso la medicina rigenerativa, come diceva Bedoni. Sì, giustamente il dottor Bedoni ha sottolineato che il futuro è la rigenerativa. Adesso non sostituiamo dei pezzi sintetici, avremo forse la possibilità in un futuro, non immagino quando, ma sicuramente di poter rigenerare dei tessuti e quindi di poter reimpiantare propri tessuti che vengono coltivati in vitro. Ecco, allora ringraziando l'opera di questa equip e il suo direttore che è Giuseppe Ferronato, vi ho presentato qualche cosa che dovevate conoscere più a fondo. Seguiteci, queste trasmissioni poi passano anche su YouTube, quindi potrete anche rivederle e consigliare agli amici con comodo. Vi aspetto alla prossima trasmissione. A voi tutti, alla prossima. Grazie a tutti.